A Yuba Itbakrim contro il Trento un'altra doppietta, sei salito a 11 reti stagionali trascinando la Juniors al secondo posto in classifica Sì, sono contento ovviamente della mia prestazione anche se non del tutto soddisfatto perché possiamo fare ancora meglio sia a livello personale e soprattutto a livello di squadra Una Juniors che è cresciuta moltissimo dall'inizio della stagione ad oggi, ti aspettavi questa crescita dopo l'arrivo di italiani? La crescita è dovuta innanzitutto al fatto che durante gli allenamenti ce li andiamo duramente e i risultati sono la conseguenza, infatti stiamo vincendo sempre La vetta dicevamo dista due punti dalla capolista Caravaggio, diventa ormai un obiettivo per voi raggiungere a sabato la sfida contro l'Ussian Jorgen? Penso che Caravaggio sia una squadra molto forte e che noi non siamo secondi a nessuno e che ci meritiamo il primo posto